E vai, siamo pronti ad osservare la grande impresa, non so perché mi fa morire da ridere, ma vi assicuro che non è divertente, cioè sì, un po' sì, però è una cosa veramente tremenda, massacrante Ciao pa! Poi ci hanno detto che la frizione si brucia, quindi bisogna stare molto attenti Ti dà una spinta al ragazzo Sono finiti i secondi, cazzo, no! Vai, che ce la fai! 3, 2, 1, bye bye!